A Reggio Calabria un'ulteriore fuga da un posto di controllo si è consumata nella giornata di Pasquetta in zona collinare della città ed infatti un veicolo al fine di evitare un posto di blocco organizzato dalla polizia municipale con una manovra repentina invertiva il senso di marcia andando ad impattare con un muro ma riuscendo comunque a proseguire la fuga. Il personale si poneva nell'immediatezza all'inseguimento non riuscendo però ad intercettare l'autovettura che guadagnava la fuga facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. A seguito di una certosina attività di verifica dei sistemi di videosorveglianza in loco, protrattesi per tutta la notte, si riusciva a risalire ai caratteri alfanumerici della targa del veicolo in fuga di cui erano noti marca, modello e colore perché annotati dalla pattuglia operante. Il giorno successivo l'auto, recante ai segni dell'impatto, veniva rivenuta presso l'abitazione del conducente, un giovane di 21 anni. Il soggetto, invitato presso il comando di Viale Aldomoro per gli addempimenti del caso, ammetteva le proprie responsabilità e veniva deferito all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale, mentre il veicolo è stato invece sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.